Onorevole Zanella, che giudizio, che idea si è fatta sul governo in pectore? Che giudizio, che commento ci può fare? Un giudizio, nel vero senso della parola, non può ancora esserci. Diciamo che non mi aspetto grandi cose e soprattutto non mi aspetto buone cose. Ecco, c'è una donna, la Premier, e questo mi dispiace un po' che sia una donna di destra, e sicuramente farà una certa differenza. Io credo che starà molto all'opposizione tenere testa a possibili arretramenti rispetto a aspetti decisivi di quello che è la nostra Repubblica, di quella che è anche la nostra cultura, di quello che sono state le acquisizioni e le conquiste delle donne, soprattutto. Ecco, e quindi bisognerà fare una buona, autorevole e rigorosa opposizione.